Musica Ciao a tutti, io sono Giorgia Pechini e oggi vi suonerò Diva Vance! Musica Musica Distanti moriti con la scuola di musica tra le quinte! Musica Ciao, sono Michele Tartari. Ora vi suonerò un valser di carulli. Musica 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 Distanti ma uniti con l'associazione musicale fra le quinte. Musica 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione